In occasione del 150esimo anniversario di fondazione delle Capitanerie di Porto, il Comune di Pietrasanta ha deciso di intitolare proprio alla Guardia Costiera e alla Capitaneria il Pontile di Tonfano. Con una cerimonia molto partecipata è stata scoperta la targa posta alla rotonda in cima al Pontile dal Sindaco Domenico Lombardi e dal Comandante della Capitaneria di Viareggio Davide Oddone. Questa è stata per il Sindaco una delle ultime cerimonie ufficiali e nell'illustrare le motivazioni di tale intitolazione ha anche chiesto al Comandante Oddone di intensificare i controlli proprio sotto il Pontile per evitare le situazioni di degrado che negli scorsi anni crearono grossi problemi di ordine pubblico. Presenti anche le associazioni di militari in congedo e il gruppo degli amici del Pontile che ha contribuito a proporre questa intitolazione. Abbiamo ritenuto utile, opportuno ma anche doveroso dedicare e intitolare la rotonda del Pontile di Marina alla Capitaneria di Porto in occasione dei 150 anni della sua fondazione e il Pontile alla Gente del Mare recependo quelle che sono state le richieste di numerosi cittadini che ci hanno fatto pervenire. Il Comune di Pietrasanta ci ha fatto questo regalo, abbiamo questa rotonda intitolata al corpo delle Capitanerie di Porto in occasione del 150esimo anniversario quindi si può capire come per noi delle Capitanerie questa è una data importante e siamo proprio felici di questa intitolazione che dimostra proprio il legame che c'è tra la Capitaneria di Porto e il Comune di Pietrasanta e anche con gli altri comuni del litorale versigliese.